La sala esposizione di Palazzo Pretoria Sansepolcro accoglie una straordinaria esposizione artistica dedicata ad uno degli artisti più versatili e innovativi del nostro tempo, Sandro Epi. Celebre pittore dello spazio e scultore di talento, l'alto tiberino Epi incanta il pubblico con la sua straordinaria capacità di trasformare l'immaginario spaziale in opere d'arte tangibili e suggestive. L'esposizione intitolata Star Art promette di essere un'esperienza visiva senza pari. La mostra infatti offre una occasione unica per immergersi nell'universo creativo di Epi. Le opere rappresentano un viaggio attraverso il suo vasto repertorio artistico, mostrando la sua abilità nell'esplorare l'arte dello spazio attraverso diverse tecniche e materiali. La mostra gode del patrocinio del comune di San Sepolcro e proprio la città di Piero l'artista ha dedicato una propria opera. Star Art perché io vado nel mondo delle stelle e quindi stare in inglese, arte, e l'ho nominata Star Art per questo perché è l'arte tra le stelle che ho inventato qui. Le tele dipinte catturano l'essenza dell'infinito spaziale con colori audaci e composizioni dinamiche che trasportano il visitatore in mondi sconosciuti. Le sculture mostrano la sua abilità nel plasmare materiali diversi per creare opere tridimensionali che comunicano una profonda connessione con l'universo anche con il quotidiano vissuto e rivisitato.